Noi siamo figli delle stelle, figli di una notte che ci gira intorno, intorno. Signore, signore, che per caso avete visto il mio signore? Un attimo Gabriele! Signore! Arrivo Arcangelo, un attimo! Signore, il telefono! Un attimo Arcangelo, neanche in paradiso un po' di pace, un attimo no, scusa. Che c'è? Signore, che c'è? C'è suo figlio al telefono. Mio figlio al telefono? C'è suo figlio al telefono. Jesus. Jesus. Ah, ogni tanto risuscita, vedi. Pronto Jesus? Ciao, allora, ciao a papà. No, ti ho cercato tutto il giorno. Eh, ma dove sei stato? Eh no, ti ho cercato sei volte. Se non senti la suoneria, cambiala. Cambia, metti un'altra suoneria, metti qualcosa più da disco, qualcosa pop. Che ne so, metti... Madonna. Metti Madonna, metti Madonna. Metti Madonna che in pagasi hai, metti Madonna. Senti a papà, ma dove stai? In vacanza dove? Sulla Maddalena. Come sulla Maddalena, papà? Ah, in Sardegna, in Sardegna, in Sardegna. Hai fatto prendere in colpa, papà. Senti. Ah, sei stato anche in barca, è stato in barca, Jesus. Ma a lui la barca non gli piace. Infatti, ma a te la barca non ti piace a papà? Ah, 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 ah. Che dice? Dice che è sceso e è tornato a piedi. Senti a papà. Senti a papà. Ce l'hai, ce l'hai soldini? Eh, cerca di essere parsimonioso, eh. Eh, no, se ti mancano i soldini, dimmelo. No, papà, che te c'hai un po' ai mani, un po' ai mani così, capito, papà? Un po' ai mani così, ecco, insomma. Che fai stasera? Rientri a cena? Resti a cena fuori. Però papà, tutte le sere a cena fuori, tutte le sere a cena fuori. Eh, che sia l'ultima, eh. Va bene? Senti a papà, eh. Eh, noi fra, tra poco, eh. No, mi raccomando, quando sei al ristorante, la preghierina. La preghierina. Quale preghierina? Il nome mio, tuo, mio e mio. A papà, dai, su. Eh, sì, sì. Ah, non toccare niente con quelle manine. No, quando sei al ristorante, con quelle manine, non toccare niente. Se ti manca il pane, chiami il cameriere e te lo fai portare, papà. No, moltiplica i grissini, la maionese, ma non tocca niente. No, papà, perché finché moltiplichi il pane, pure pure. Ma sette, otto mila euro di pesce, io ne la faccio ogni volta. Va bene? Senti. Eh? Quando rientri questa sera, non fare la via Crucis. No, è piena di gente, in sé cammina, fa un'altra strada. Va bene, taglia, 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 a mezzo, fa la scorciatoia, sì, sì, va bene, noi andiamo a dormire, va bene? Ciao a papà, ciao. Sì, 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 noi andiamo a... Perché ti devo aspettare sveglio, scusa? C'è San Pietro. Eh, c'è San Pietro con te, sei riperto le chiavi, un'altra volta, papà. Però, papà, io non ce la faccio così. Va bene, dai, ti aspetto sveglio, ciao, ciao, ciao a papà, ciao, 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 ciao. Ah, sti figli, che croce, guarda, non c'è segreto, guarda. Ah, sti figli, che croce, guarda, non c'è segreto, guarda, non c'è segreto.